Ciao a tutti pischelli e benvenuti in questo nuovo episodio di portal prelude siamo arrivati alla stanza numero 10 signori e signori Cosa che ci schiacciano cubi in testa come al solito Allora io sparerei un portale qua e qui Ecco sto cosa attira Queste sono le meccaniche che non c'erano in portal normale Andiamo di qui E il cubo Ah ok qui c'è una barriera Ok Quindi dovrò far abbassare quello Quindi Merda sono tornato indietro? Si è spostato? Ma ha detto Allora adesso e adesso e adesso Posso prendere? Ok stai qua Ah ok forse ho capito No non ho capito niente Allora Questo me lo ciappo Ehm Ah ah ok 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 Forse Vado di qua Sparo un portale Qui Che non posso Che non posso Ah qua non posso Quindi così E così Anzi così E così Vado di qui E ce lo tiro dentro al sacchetto signora Ok Così questo viene attirato qua Ok Porta su Olè E' fatto Per la verità non ho la prima minima idea Va bene Ok Vabbè raggiungiamo nella prossima stanza Vediamo Si chiama Peter Molto british Signori spero che questa serie vi piaccia Perché è molto interessante questo gioco E' un po' diverso dal portal 1 Dal portal 2 Perché ha delle meccaniche diverse La sfera energetica dell'apertuscience Ok Essere sicero Non l'abbiamo fatto A crearla Ok Non so neanche Conviene fare attenzione Ok Quindi Dove devo mandarla Dove devo mandarla Quindi vedere Ah qua c'è una porta Ah qua c'è un coso Ok Quindi Io devo mandarla dentro lì Allora mettiamo un portale Là Là sopra Poi Un portale qua La mandiamo di là Poi togliamo l'arancione Togliamo il blu Ok Merda 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 Ok Olè Olè Oh merda Stai calmo Merda 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 Maledette Maledette Stronze Allora Facciamo così Mo vi faccio vedere Io ho stronze Beduine To Schioppati sta pallina Eeeh Impazzita Stare attenti però Non morire C'è anche noi Ok Ok la presa Via 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 Uh Panico Panico Ho avuto paura Ho avuto paurissimo Sperai una cosa Eeeh Vediamo l'ha fatto a creare Questa sfida energetica Eeeh Siamo nel 2001 Mica nel 3001 Ok Ok Stanza Numero 12 Signori Numero 12 Io sono Peter Credo che mi abbia già detto Di me Giusto Proprio così Permette che mi presenti Io Peter Lavoro qui da 18 anni Sono affatto felice Ma what Oh cazzo Qui cos'è Ah ok Devo portare la sfera di qua Quindi Facciamo Così Ok Eeeh no Dove sto andando Devo andare di là Eeeh Blu Ok Qui Attivato Si Cosa si è spostato Ah ok E' attivato qua Ok Siamo bloccati qui Vuol dire che ogni singolo dipendente di questo compresso Stava godendo della giornata Porta tua figlia A lavorare con te Tranne noi Ma what Ma che cazzo Cioè che dovremmo bisogno di 4 dipendenti Ok Che immagini dipende Noi ne abbiamo Non credi Eh in effetti Ah beh sì Ok Qui dobbiamo fare La stessa tecnica di prima Quindi Ok Siamo qua E qua sopra la stessa roba Penso Spero No Non è vero Come ci andiamo Non ho visto se c'era Ah Aspetta 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 Io faccio così Mi posso lanciare di sotto Ok Quindi Quindi posso fare così E lanciarmi Merda Non ci arrivo Perché non ci arrivo Signora Facciamo così Vediamo se Ci arrivo così No Devo andare a destra Devo andare No 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 Sei calmo Sei calmo Non sto capendo niente Ok Devo andare a destra A destra A destra Ok Siamo a destra Adesso Che cazzo è sto posto Qui c'è un punto Non capisco Non capisco Allora Io mi lancerò Il portale lì Che è quello più alto Ok Qui c'è una barriera Qui c'è una porta Ah siamo arrivati E perché c'è C'è la barriera Ah così In maniera randomica Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Andiamo Avanti Ok Siamo arrivati Alla stanza Nella stanza Numero 12 13 Ok Sono pregiudati Per essere risultati A meno L'otticesima stanza Ah Ok Ok Signori Siamo arrivati Nella stanza Numero 13 Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Con un bel mi piace E noi Ci vediamo Nel prossimo video Vi ricordo di passare Dai social network E lascerò comunque Qualche spoiler Qualche cosa Di tutte le serie Che stiamo facendo E quindi Da breve che avete tutto Ciao a tutti